Ciao ragazzi, scusate per la luce scarsissima, ma mi si è rotta la lampada, comunque andiamo avanti Oggi vi farò vedere il mio eyeliner preferito di Astra Si tratta del Subliminal 16 Ore Pro Liner Eccolo qua, è questo, ve lo faccio vedere meglio Ha una punta sottilissima in feltro, è nerissimo e questa è una cosa che mi piace tanto Dopo vi dirò però anche la sua pecca Scorre bene, è superscrivente e soprattutto dura tantissimo Ma prima di dirvi la sua pecca, lo proviamo Unica pecca che è una cosa che è capitata a me personalmente Un giorno mi sono truccata, poi l'ho appoggiato 5 minuti aperto e si è seccato subito Ecco, questa è una cosa che non mi è piaciuta e che con gli altri eyeliner non mi è capitata Se dovessi dare un voto, otto e mezzo Come sempre spero che questo video vi possa servire Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio